Sono Emanuele Cimadoro, ho 21 anni e vengo da Fino Mornasco, in provincia di Puebla. Mi piace scherzare con gli amici, comunque sono molto cazzone. Sono un tipo molto attivo, esuberante, però ci sono alcuni momenti in cui davvero dovete lasciarmi stare. Quando sono a casa, svegliarmi è un forte, forte problema. Emanuele, Emanuele, dai Eman, che suona la sveglia, dai. Mia mamma davvero è diventata pazza, dalle 6 alle 8 sono davvero il suo incubo. Spero che me lo abbrizzate in qualche modo. Mi piacerebbe riuscire a dimostrare comunque alle persone che magari non hanno creduto in me che non sono soltanto il cazzone che mi piace dire di essere. Grazie. 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 Grazie.